Buonasera, buonasera, sono Maria Giovanna Labruna, io voglio salutare tutto il popolo del Premio Mio Martini, ma non solo qui in Calabria, perché ci troviamo a Scaleia per i tre giorni artistici che sono veramente iniziati alla grande, con tante emozioni, sensazioni. Per dirti quello che già sai, due note di felicità, per ricordare che ci sei. E questa musica che mai ci lascerà, canteremo insieme sempre, tutti i giorni della vita, tu, amica mia, sempre resterai in fondo. Radio Meduare La radio del Premio Mia Martini Grazie a tutti.